Buongiorno Viola! Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, tu sei quella che conta, no? Sì, esattamente. Che cosa hai contato questa settimana? Allora, oggi, questa settimana, sono andata a contare il numero di lampadine del Lampadario del Teatro La Scala di Milano. Ah, però... Una alla volta. Una alla volta. E praticamente sono 383 lampadine. Ah, beh, allora... Beh, tanto, 383 lampadine. Se hai detto così il numero... Infatti, hai detto così il numero? Vabbè, uno si parla a migliaia... Beh, no, però... Per 380 lampadine, una attaccata all'altra, fanno un bel lampadario, effettivamente. Assolutamente. No, no, è proprio grande quel lampadario. Tra l'altro ho letto che la cupola appiccicata al soffitto, che viene insieme il lampadario e il soffitto, è talmente grande che può tenere dentro una persona in piedi. Sì. È gigantesca. Sai che io l'ho conosciuta? Sì, è ancora lì dentro? No, non so scherzando. Ah, davvero? Mio zio, quando era giovane, studente, fece... Lavorò per la scala e lavorò all'interno del lampadario della scala. Non è vero? Sì, Ottavio. Il mio zio Ottavio... Dentro la cupola appiccicata? Sì, sì, sì. E cosa faceva dentro? E dentro c'erano delle robe elettriche per... Ah, così che faceva l'elettricista. No, poi lavorato per la telecom, dopo, però sì, nel senso. Ah, vabbè. Studiava e quindi... Vabbè, sì, no, 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 è grandissimo. E praticamente... Devo dire che non è tanto alto, eh. Ops, l'ho detto. Ah, vabbè, allora non è così grande. Mio zio non è... No, 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 ci stavano. Sì, sì, sì. E praticamente per pulirlo, perché poi mi sono chiesta come lo dovranno pulire prima o poi... Stacca uno a una le lampadine e pulisce. Esatto, non le staccano uno alla volta, lo calano lentamente in mezzo al teatro, una volta all'anno d'estate. Ok. E ci sono poi delle persone a post, professioniste, che puliscono uno a una le lampadine. Pensate, non c'è un Dyson, no? No, sì, 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 una volta all'anno. Una volta all'anno, vabbè. Tu quante volte all'anno pulisci la lampadina di casa tua? Sinceramente? Eh, mai. Io credo di non aver mai pulito il caso mio. Quindi, infatti. No, poi ovviamente, c'è da dire che il lampadario della Scala non è quello originale, perché quello originale è stato distrutto durante un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Ok. E quindi l'hanno rifatto, ricostruito. Ok. Dei vetrai di Murano. Ok. Anche se non è tutto in vetro, perché alcune parti sono comunque di plastica per renderlo più leggero. Ah, ma immagino. Sì, sì. E un'altra curiosità che ho letto molto interessante del teatro e della Scala in generale è che è il primo edificio pubblico che è stato illuminato dall'energia elettrica. Eh sì. Sì, e tra l'altro contava ben 2450 lampadine, però totale, non solo il lampadario. Eh sì. Nel 1883 è stato illuminato per la prima volta, in occasione, mi pare, della Gioconda. Della prima, della prima della Scala, sì, 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 di quell'anno, grazie alla centrale elettrica che c'era in Viera Santa Resegonda. Sai dov'è? Dove c'era il Cinema Odeon. Ah, ok. Lì c'era una centrale elettrica, penso. Sì, sì, capito. Sì, sì, sì. E sai quando videro la luce cosa fecero? First reaction. Shock. È perché è da lì che arriva, è da lì, è lui che raccontava quella storia lì. Davvero? Sì, 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 sì. Ma ah, non lo so. Eh sì, hai visto che twist? Ma va, è tutto collegato. Eh sì, ma Lorenzi stava raccontando quella storia lì. First reaction, shock, quando videro la luce arrivare per la prima volta alla Scala. Mamma mia, non lo sapevo. Hai visto? Sai io non lo sapevo, davvero. Eh beh, tu sei quella che conta, io so quello che legge. Che sa, quello che sa, quello che sa. Altro? Basta? No. Non sappiamo niente. Diciamo che abbiamo cercato anche un altro dato, ma l'abbiamo trovato.